Numero 5. Imetec Bellissima Revolution Richie Curl è un arricciacapelli automatico che promette risultati eccezionali. Con la sua rotazione automatica e il rivestimento in ceramica, è delicato sui capelli e crea ricci morbidi in pochi secondi. La temperatura varia da 190 a 220 gradi celsius per adattarsi alle diverse esigenze. Dotato di multivoltaggio, è perfetto anche per l'uso all'estero. Tuttavia, non è ideale per capelli corti o per chi desidera boccoli stretti. Apprezzato per la sicurezza e facilità d'uso, riceve molti voti positivi. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto, clicca il link in descrizione. Numero 4. Babyliss Pro The Perfect Miracle Steam sorprende con la sua tecnologia automatica e rivestimento in ceramica. Ideale per ricci definiti, morbidi o larghi, funziona perfettamente su tutte le lunghezze. La funzione vapore assicura una chioma più idratata, mentre la selezione della temperatura tra 190 e 230 gradi celsius rende l'uso facile e sicuro. Unico neo, manca una custodia inclusa. In generale, ottimo per acconciature semplici e veloci con risultati professionali. Se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo, clicca il link in descrizione. Numero 3. Babyliss Curl Secret 2 è l'alleato perfetto per chi vuole ricci impeccabili senza fatica. Con cilindri da 25 mm e 35 mm, permette di creare diversi stili. Il rivestimento in ceramica e la funzione ionizzante proteggono e domano i capelli. Questo arricciacapelli automatico è semplice da usare e include funzioni pratiche come lo spegnimento automatico e il cavo girevole. Un ottimo strumento per chi cerca risultati professionali a casa. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto. Numero 2. Philips propone un arricciacapelli di alta qualità specifico per chi ha capelli molto lunghi o spessi. Rivestito in ceramica e cheratina, offre tre livelli di temperatura che vanno da 170 a 210 gradi Celsius, rendendolo adatto anche a chi ha capelli crespi o sfibrati. Vantando una funzione ionica, previene l'effetto crespo e permette di creare diverse onde o ricci con facilità. Tra i punti deboli, è da notare che non è ideale per i capelli corti. Un prodotto pratico e versatile. Trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video. Numero 1. Babyliss Miracurl è un arricciacapelli completamente automatico, noto per il suo motore digitale e il rivestimento in ceramica. Misura 42 x 129 x 54 mm e raggiunge una temperatura massima di 230 gradi Celsius. Delicato sui capelli grazie all'ionizzatore, è adatto anche ai capelli corti. La modalità stand-by dopo 20 minuti è un plus. Tuttavia, i livelli di temperatura possono essere abbastanza elevati. Perfetto per chi cerca praticità ed efficienza. Il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione.